Buongiorno a tutti quanti, una ragazza ieri mi ha scritto un messaggio veramente dolcissimo e quindi ho detto dai, domani vloggo quindi vi porto con me un po' in questa giornata dai cerchiamo di far rientrare un po' anche youtube adesso prepariamo la colazione insieme, sono le 8 e mezza e io sono appena tornata da casa del mio ragazzo ultimamente me la faccio sempre a piedi il giorno prima andando da lui e poi la mattina torno adesso comunque fa anche un po' più caldo e quindi insomma lo faccio un sacco volentieri perché mi devo tenere attiva praticamente è un secondo allenamento per me muovermi perché stando sempre in casa lavorando al pc comunque niente, adesso prepariamo la colazione che voglio fare un esperimento intanto che si cuoce l'esperimento mi sono preparata il cappuccio il famoso cappuccino con le proteine che ormai avrete già conoscerete anche voi perché nei miei video è spesso presente praticamente unisco acqua, latte di soia, proteine isolate, gusto neutro di bulka questa è ancora la vecchia confezione in realtà grazie e Chiedo scusa se sono un po' scombussolata Già di prima mattina Ma devo dire che sto un po' stanca Sono un po' stanchina Perché non sto dormendo neanche tanto Tipo 6 ore e 45, 7 ore E per me è pochissimo dormire così Cioè io ho bisogno sicuramente di 8 ore Però andando a letto 11 e mezza, mezzanotte Alzandomi alle 7 e mezza 11 e mezza, no non ci vado a letto Mezzanotte, mezzanotte e mezza Quindi sì, è che soprattutto la sera mi metto a giocare al pc con i miei amici Oppure stai un po' al telefono, fai delle cose Non è che si riesce a andare a letto tanto presto Poi ovviamente la sera non hai sonno Cioè senti la stanchezza ma hai voglia di fare un sacco di cose Bene Comunque adesso devo pubblicare Sono le 10 e un quarto Stamattina ho fatto una call di lavoro Che potrebbe essere molto interessante Uh scusa Yuki Fatto tutto quanto Adesso disfiamo il letto Yuki Disfiamo il letto e poi ci alleniamo Poi ci alleniamo anh Qu μια Cioè Monet Quasi Oh Se Cioè Ha I Cioè Che Cioè Ah Mi T Spe Mi e non centri tra i pupazzi bene, voi avete visto come ho fatto il letto in tipo 5 secondi in realtà sono stanchissima perché fare questo letto è bello lungo più che altro mettere che poi con questa coperta che inserisco dentro è più semplice, con quella invernale di solito faccio il letto dopo che ho allenato braccia quindi è tipo massacrante è un secondo allenamento parlando di allenamento adesso ci andiamo ad allenare insieme, oggi abbiamo è venerdì, boot day dreaming on the dance floor I still remember the feeling I wanna dance still I can't no more all of this time I've been dreaming I've been dreaming dreaming on the dance floor dance floor tell me you still remember one day we'll be together it's you and me forever dreaming on the dance floor ho appena finito l'allenamento e vi ho mostrato un attimo qualcosa che mi è arrivato da bulk ovviamente vi ho fatto vedere solo una parte dell'allenamento perché comunque non ho registrato tutto quanto però voglio farvi vedere dei prodotti che secondo me sono assolutamente davvero in dispensa per esempio questo mix che vi ho già in realtà mostrato in uno scorso video finalmente è tornato disponibile infatti ne ho presi due pacchetti semi di chia non possono mai mancare le barrette vegan queste qua le prendo anche per Brian che le consuma molto spesso adesso è ora di pranzo quindi andiamo a preparare oggi no il menu prevede mozzarella light la prendo a Lidl ma non la scherella perché mi fa cacare e pasta e verdure asparagi per l'occasione quindi ci vediamo adesso per il pranzo grazie per l'occasione buon pomeriggio sono le 5 e mezza io ho fatto due consulenze una alle 3 e una alle 4 e mezza ora merenda ci vuole dentro abbiamo yogurt greco zero un po' di dolcificante perché sennò è immangiabile lo yogurt greco zero infatti di solito prendo quello al 2% di grassi poi ho messo un pochettino di muesli melone, fragola e delle palline e di cioccolato fondente sono di bulk sono buonissime, io le amo infatti le regalo sempre anche ai miei amici perché gli piace molto insomma ho fatto questa mega bowl una bella merenda ricca poi dopo, tra un po' un attimo il tempo di digerire vado un po' sul letta pirulana per cercare di mantenermi un po' attiva perché praticamente per persone come me ma anche tanti di voi che comunque fanno un lavoro e stanno sempre seduti camminare, muoversi, essere attivi è un secondo allenamento ne parlavo l'altro giorno con la mia coach la Francesca infatti mi ha detto cerchiamo di essere un po' più attive e io comunque cerco di fare sui 10.000 passi al giorno cerco di stare senza stressarmi però è proprio un altro allenamento per me quindi passeggio di mattina sul tapirulano oppure vado in giro comunque se riesco ho delle cose da fare comunque vado fuori a camminare però è difficile comunque riuscire a tenersi attivi quando comunque tutte le cose che hai da fare sono più che altro in casa quindi un po' così vi vediamo dopo per la cena stasera credo ci sia pesce al forno un po' di patate and then and then a a Sous-titrage ST' 501